musica 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 ma questo come cazzo questo è antipatico mamma mia chi? sa che stava parlando ma si copri io però te ne ho una voce poco antipatico ma bellissima ma mi romperi qui ci voglio fare sesso fuck se no io la minaccia sembra di stare in italia sembra dei power rap side sembra più di tutto in italia dici che spari che spari che spari che spari che spari nessuno fa bam bam ma quanto è stato lo spezzo? 2 a 0 per l'oro doppietta dinzola ma l'inter quante cazzo ho? domani domenica domani domenica? spedagno spedagno positivo al coronavirus eeeh godo non non i non 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 andiamo a vivere ha detto ma bufammoci i claymore no no questa è bella questa mappa stiamo spettando la mappa non l'ho mai fatta no sì ce l'ho fatta prima mappa l'ho fatta questo blod ha già fatto paraggio morti ho smirato la nuova vita morta noi siamo tombola come tombola tombola vedente sta nuova vita morta cosa c'è? non c'è lì oh è lì c'è già tutta la vita mannaggia non c'è l'ho fatta non c'è l'ho fatta ma non muro è tornato ho vero credo questa gente qua sta la gente camperata nel fiume tu non puoi capire sono 4-0 per visti i scimi non riesco a uscire dal fondo di sfondo è uscire dall'altro lato ma qua si esce tutta la gente cana hai capito ma tu sta detto quando è l'oro mamma mi sono ridolato sono usciti 5 di l'oro è stata in tombola ma c'è non c'è la tombola no 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 non c'è un bagno oh ma spardo no no mi sono usciti lì ma come lo faccio a prendere la pistola in merda? non dà il bane ma poi ho recuperato ma comunque ho recuperato no mamma mia... mister mme. Elena, che puo' cose che non sento niente lo faccio a un youtube il moro ma che ma non c'ho tra sinicolpa a chi a chi non c'ho tra sinicolpa per a chi là per piacere non c'ho tra sinicolpa a chi lo bastarde sul corn poi salivo lì non volevo bene non c'ho tra sinicolpa a chi non c'ho tra sinicolpa a chi a chi a chi a chi no forse è un gioco di merda disegge ma vado a chi se ne vai, ti facciamo asciunta nooo con l'auto revolver come fate a chiedere l'interessi manco colpa ma come è possibile ingentere su manco colpa kill da vario all'albero cazzo ma ci pare un bagno ma ci farà a me ma da fare di modo di aiuto qualche saggio 12 12 no 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 cadere morti può far scopi a fisto che io appositamente di rumori su tutarmi in merda via la ampia tv no no c'è i tappi c'è stato di a 7 14 insomma ma chi era lei dall'albero mancino vero ma che le stava tre orari dall'albero ma te ne hai messo una nana, ah te ne hai messo tu a nana eh ti ho messo un c**o, faccio il zumbare tombola vedente, ma come che il nome è tombola vedente ma ci ha sparato un coppio e viene morto ma di una a fianco perchè ci ha sparato un coppio, va che merda io che ho fatto? no ma parlo, si chiama un ponte è arrivato a cagnare, voglio dire come lo trovo qui nooo, sono accendendo la pistola, chi se? vendita il 15 è stata che la tombi sono ormai sono morta, che cosa faccio fare? spara no, non ho seguito con la berretta qui sta non ho fatto un c**o non ho fatto un c**o non riesco a farlo mamma mia chissà che uso il chiena la coppia la coppia dove c'è il chieno la coppia guardiamoci nel tuo film ma è in passione il fiume sto andando salvami la vita no sono molto comandati io e ternand siamo molto comandati di silo vabbè chissà da chi siamo chissi ma ciro ho fatto una vita no 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 è finita è finita parte passato di una rete come hai fatto a 90 ma anche un 2 come hai fatto a non vederli come è fatto a non vederli il rumore ha che armi in merda ma mamma mia no no ma chissà ma chi sempre chi sta facendo? la cazzo di laggata che ha buttato 33 11 21 e so è la vola di chissà un maronno è un incubo Silvio ha già pronotato la vacanza zoccole è morto è morto ma sta giocando questa campanella la città proprio volevo fare una c***a con la claim vabbè vabbè non fa niente non fa niente è bravissimo scusami una forza la capa nooo oh che bella arma che ti è ancora uscita quando pronisci questa mappa? mi stanno capo qua la mappa viene i campi ma ma sei tu in loco sotto? ma chi è che sta camminando in loco sotto? va per il figlio ciao va da qui salvatemi grazie ho sciso ho sciso ho sciso fermo ma non morgli e va per giustare le macchini a mia no la c'è che ti è mai più la c'è해 niente non muoio non muoio abbiamo vinto ci avevo vinto ho fatto quasi 40 kg ma per c***o Ah, c'è un po' non falla le fatti vedi di due anni vieni all'armi ieri sire ah lo so Buongiorno